questo video sarà registrato e diviso poi successivamente in fase di montaggio in due parti una parte del vero l'ho già registrata ed è relativa alla degustazione di una english ipa mentre questa parte che registro adesso è più storica più appunto dedicata alla storia come suggerisce un po clickbaiting il titolo la vera storia delle india pale ale specifichiamo fin dall'inizio nell'introduzione di questo video che le ipa o ipa questo cronimo sta per india pale ale non indian con la n finale ma con solo il nome appunto india del paese dello stato india appunto le birre che dal regno unito e dall'inghilterra in particolare andavano in india well yes but actually no per citare un famoso meme perché non è proprio così la storia motivo per cui appunto ho un po tra virgolette osato dare il nome la vera storia per provare appunto a spiegare questa cosa qui ho preso tutte le info sul sito del sempre sempre ottimo martin cornell storico giornalista inglese che ha dedicato tantissimo tempo della sua vita a parlare della storia della birra della cultura brassicola inglese in particolar modo perché è inglese il suo sito sito file lo consiglio tantissimo già citato in altri miei video perché appunto è una fonte secondo è molto valida ricca di informazioni ci sono anche per fare questo video ci sono anche delle sue interviste che io ho trascritto anche perché è un signore di una certa età che parla con un accento a cockney fortissimo quindi va un attimino visto e riascoltato per capire bene tutto quello che dice ma appunto secondo me è una fonte sufficientemente valida ultima cosa che vorrei dire prima della sigla vorrei tra virgolette un po' rubare l'idea al sempre sempre ottimo Dario Bressanini che nel suo ultimo video ha fatto una sorta di mini riassunto per chi ha fretta e non ha voglia o tempo o anche capacità di ascoltare un video molto lungo allora la storia delle indie pelle si può riassumere in questo modo empiricamente i mastri birrai nel tempo hanno scoperto che alcol e luppolo sono fattori che diminuiscono la probabilità che la birra possa andare a male per possa andare a male intendiamo oggi quello che magari all'epoca non era conosciuto molto bene ma cioè infezioni batteriche tipicamente ma la maggior parte dei batteri fanno fermentazioni acide e quindi ci si accorgeva banalmente perché la birra diventava acida le condizioni igieniche non sempre erano delle migliori il trasporto spesso veniva in contenitore di legno la cui porosità è un substato ottimo per la crescita di alcuni batteri e non solo di conseguenza la questione era che qualsiasi birra dovesse essere esportata vuoi ai Caraibi, vuoi in India, vuoi semplicemente devo lasciarla nel mio magazzino dello Yorkshire semplicemente tutta estate empiricamente la cosa che si era scoperta è che alcol e luppolo sono fattori che aumentano diciamo la shelf life diremmo oggi quindi la possibilità di conservare meglio questa birra questo non c'entra nulla con la compagnia delle indie orientali perché l'acronimo IPA nasce in Australia più di due secoli dopo la nascita della compagnia delle indie sfruttando il fascino che negli anni la compagnia delle indie si era creata ma nasce il termine IPA, India Pale Ale, a scopo commerciale è una trovata appunto commerciale di un rivenditore di birre australiane fine della storia è questa se avete voglia di ascoltare tutto invece il racconto un po' più approfondito con alcune cose secondo me interessanti che ho selezionato ci vediamo dopo la situazione innanzitutto collochiamoci temporalmente e geograficamente siamo ovviamente UK, Regno Unito siamo in un momento in cui il Regno Unito è particolarmente forte per quanto riguarda l'imperialismo e appunto nasce la compagnia delle indie la compagnia delle indie orientali nasce su decreto di Elisabetta prima il 31 dicembre del 1600 ha però poi la massima espansione, il massimo momento di forza politica e commerciale soprattutto perché di fatto ha il monopolio su tutto quello che è il commercio sull'oceano indiano e questo monopolio è garantito per legge dalla corona inglese e questa massima espansione commerciale è dall'inizio del 1700 il primo secolo forse non è indicata, leggendo soprattutto le fonti online come periodo di particolare forza della compagnia delle indie orientali fatto a stare che durante tutto il 1700 fino alla seconda metà del 1800 ha appunto questo grosso momento di potenza economica e commerciale della compagnia delle indie orientali noi come periodo ci dovremmo collocare per questa storia nella seconda metà del 1700 in particolare nel 1780 per parlare di IPA, di IPA, bisogna secondo me partire dalle porter sfrutto questa cosa perché capita di fare degustazioni guidate è una che ho fatto appunto proprio sulla storia delle IPA sono partito dalle porter facendo vedere anche proprio fisicamente le differenze numeriche tra quelle che oggi codifichiamo come porter e le export porter o stout e le foreign extra stout perché secondo me viene partito dalle porter? perché appunto anche basandosi solo sulla codifica moderna fatto sta che le versioni export, cioè pensate appunto per l'export hanno due caratteristiche che spiccano subito l'occhio un più alto livello di amaro e un più alto livello di ABV, di alcol questo perché come dicevamo nell'introduzione luppolo e alcol in un contesto in cui ovviamente non dobbiamo immaginarci il trasporto refrigerato ecco sono fattori che oggi diciamo chiamiamo il luppolo con un effetto batterio statico ovviamente stiamo parlando del 1700 quindi non si sapeva nemmeno cosa fosse il lievito fino a Pasteur il lievito era un po' un mistero ma appunto la cosa che già era diffusa per quanto riguarda il commercio delle porter e delle stout più avanti, aggiungere più luppolo, luppolare di più queste birre e cercare di farle fermentare per arrivare a un livello più alto di alcol ecco questo garantiva una maggiore conservabilità una maggiore conservazione di queste birre dedicate appunto all'export export che avveniva come dicevo prima anche in particolare anche per esempio nelle zone dei Caraibi questa cosa appunto secondo me è bene ricordarla perché non è un'esclusiva delle birre pale delle birre pallide chiare questa cosa di avere delle versioni più luppolate per l'export è una cosa generale empiricamente appunto si è scoperta i master birreini hanno scoperto questa cosa in altri video storici e qua vi rimando se volete al video in cui ho provato a descrivere le differenze tra portare e stout anche mi viene in mente un video pubblicato un annetto fa sulla storia delle basse fermentazioni partendo dalla prima pils brassata da Joseph Groll a Plezen appunto trovate tutto sempre sul canale metto magari le schede mi ero appunto già capitato di dire che le birre chiare come le conoscemo oggi c'è una pils, una ellest, quel biondo, bello, limpido ecco è una cosa molto moderna appunto le pils nascono nella seconda metà dal 1800 e comunque le birre così chiare sono una cosa molto recente soprattutto se consideriamo che sono 6.000 anni che facciamo birra ed è da qualche pochi secoli, meno di due secoli che abbiamo birre così chiare un po' dovuto anche ai motivi logistici cioè i bicchieri di vetro ci sono da molto poco tempo e quindi prima dell'utilizzo dei bicchieri di vetro chi se ne frega del colore della birra tanto non potevo vederne la limpidezza ma un po' perché ci sono anche processi proprio tecnici, produttivi che possiamo fare solo nei tempi più recenti di base però tornando appunto al Regno Unito le due macro categorie di birre che potremmo definire chiare e scure sono le Porter il cui nome già ci riporta all'origine di questa birra cioè è nata nel Porter indica il facchino quello che trasportava appunto o dalle navi o sulle navi o in giro per la città delle merci e hanno questo nome perché si sono diffuse come birre molto economiche anche qui vi rimando la storia sulle birre delle Porter perché bastava utilizzare un piccola quantità relativamente piccola quantità di maldo che ne va tostato per dare molto sapore e quindi si potevano fare birre economiche con comunque un discreto profilo organolettico e di gusto e quindi queste birre hanno preso molto piede nelle classi diciamo più povere della società londinese del XVIII secolo a differenza delle birre invece pale fatte con malti chiari che venivano essiccati per esempio al sole se avete mai visto qualche foto del floor melting che si usa per i whisky e per gli scotch quindi queste zone in cui una persona col badile gira il malto per farlo asciugare appunto al sole si riescono a ottenere colori più chiari come per esempio un colore simile a questo ma appunto sono birre più costose e le birre pale erano diciamo un po' per le classi sociali un po' più ricche lo stesso Zito File che ho citato prima dice che le birre pale probabilmente esistono da fine 1600 con appunto il malto essiccato al sole hanno però un vero successo a partire del 1800 perché diciamo grazie alla rivoluzione industriale si riesce a ridurre i tempi di essiccatura e quindi contenere i costi con appunto processi industriali che riescono a scaldare senza la fiamma diretta che bruciava questi chicchi di orzo e appunto generava poi tutte le birre brown o appunto più scure fatto sta che appunto queste due grosse categorie di birra esistono ed entrambe quando dovevano essere spediti in un luogo lontano da un luogo di produzione indipendentemente dal fatto che la birra fosse chiara, scura, una porter o una pale o qualsiasi altro nome o volevo dare quella birra indipendentemente quindi da dove andasse cioè diciamo verso west, verso ovest o semplicemente da Liverpool la volevo portare a Londra e so che magari il viaggio poteva durare molto ecco i birrai sapevano da almeno metà del 1700 che se volevano diminuire la possibilità di contaminazione batterica cioè che le birre andassero male dovevano farle con più alcol e più lupolo e questo era diciamo proporzionale al rischio che si volevano assumere i mastri birrai lo stesso Martin Cornell indica in un suo articolo che l'acronimo IPA però nasce per motivi commerciali in Australia e sappiamo esattamente come perché nasce su un annuncio su un giornale nel 1829 proprio per sfruttare il fascino della compagnia delle Indie ed è il colonialismo inglese che tutt'oggi insomma esercita ahimè un certo fascino ma non era un'esclusiva di quelle birre delle birre pale o di quel birrificio che se le ha inventate e poi vediamo quali birrifici dicono di essersi inventate lo stile delle IPA tutte le versioni export erano quindi più luppolate a meno certo che il birrificio non si voleva prendere il rischio di risparmiare sul luppolo ma rischiavi che poteva la birra era più probabile che la birra potesse essere soggetta a contaminazioni batteriche le birre quindi che andavano in India si chiamavano con lo stesso nome probabilmente di quelle che stavano nel Regno Unito in alcuni casi si utilizzava l'espressione export proprio per indicare che appunto fossero destinate all'export ma appunto all'inizio non era utilizzato questo acronimo IPA almeno per il primo secolo più o meno non veniva utilizzato appunto l'acronimo IPA che appunto nasce in Australia ho detto i birrifici che credono di aversi che dicono di aver inventato le IPA e uno tra questi è sicuramente BAS uno dei birrifici più importanti del Regno Unito qui per spiegare perché BAS crede comunque sostiene di essere l'inventore delle IPA e in parte non ha tutti i torti dobbiamo tornare appunto fine del XVII secolo siamo in Inghilterra bisogna parlare un attimino dell'organizzazione logistica della Compagnia delle Indie partiamo dai tempi le tempistiche di questa compagnia i tempi di viaggio Londra India erano più o meno di 4 mesi quindi la compagnia partiva 4 mesi di viaggio 4 mesi rimaneva in India altri 4 mesi per tornare indietro 3x4, 12 diciamo che da quando la nave partiva a quando la nave ritornava a Londra passava esattamente un anno le navi inizialmente partono vuote perché è da conquistare ancora l'India e tornano piene con beni che prendono nel posto rivendono poi nella madrepatria man mano che però i coloni si stabiliscono in India la compagnia inizia a portare in India beni che è sicura di riuscire a vendere facilmente e in particolare le armi che riesce a vendere ovviamente facilmente i coloni tutto ciò che è come si dice la forniture i mobili che riesce a portare appunto in India e vendere mobili per diciamo ricostruire un po' quello che è elementi tipici inglesi ecco per i coloni nella terra che stanno conquistando in India e cibo e tra il cibo c'è anche ovviamente il discorso birra dice proprio Marty Cornel che vengono portate queste cose per far sentire coloni come se fossero a casa le navi che partono appunto da Londra partono dal Tamigi poi si spostano nell'oceano e così via partono da una zona che attualmente il quartiere si chiama Blackwell o Isol of Dogs è particolarmente comoda questa zona la vedete sulla mappa magari metto anche qui la mappa di Londra perché c'è una grossa ansa che fa il Tamigi questa zona è molto comoda per questa ansa e per come è fatta quella zona per stoccare le cioè per parcheggiare le navi si dice parcheggiare le navi per ormeggiare probabilmente si dice le navi e facilitare le operazioni in punto di carico scarico e questa zona è appunto talmente importante che la tangenziale che passa lì vicino si chiama proprio East India Dock Road quindi appunto è rimasta l'importanza storica fatto sta che appunto tornando alle nostre colonie in India i coloni sono tutto sommato benestanti molti sono anche funzionari della corona quindi sono pagati anche bene sono parachi militari eccetera quindi la compagnia delle indie può vendere facilmente tutte le birre sia le porte le più economiche sia soprattutto le pelele un po' più costose in media un po' più costose le birre pale perlomeno fino al diciamo a 1800 metà del 1800 i produttori famosi per la qualità delle loro birre pale sono quasi tutti a nord di Londra questo è bene specificato Liverpool e Barton sono città famose proprio per le pale ale c'è tutto un discorso già affrontato anche in altre volte sul fatto che Barton ha una serie di condizioni favorevoli così come sarebbe stato poi Plezen legato alla qualità dell'acqua fatto sta che appunto la concorrenza tra tutti i produttori di pale ale che vogliono piazzare il loro prodotto vogliono dare il loro prodotto alla compagna delle indie orientali ecco questa diciamo competizione viene vinta da un berificio che si chiama Old Bow Brewery di George Hodgson non solo perché si trova casualmente proprio vicino dove il Tamigi appunto fa questa ansia dove poi vengono caricate le navi ma perché fa un accordo che brucia ovviamente la concorrenza di long credit ossia George Hodgson decide fa questo accordo con la compagnia delle indie che vi do le mie le mie birre le mie pale ale più lupolate perché ovviamente vanno all'estero non me le pagate subito andate in India le vendete quando tornate mi date i soldi dopo averle vendute ed è un credito di un anno cosa che in quel momento riesce a battere la concorrenza perché appunto fa un long credit appunto di 4 per 3 di 12 mesi quindi di un anno Martin Cornell dice proprio nella sua intervista che le pellele e George Hodgson forse comunque probabilmente lui pensa fossero meno buone nella concorrenza Liverpool Barton soprattutto ma l'accordo era talmente goloso per la compagnia che praticamente decidono di vendere esclusivamente le sue birre perché le vendono senza ancora averle i loro stessi pagati una delle ipotesi che avanza appunto lo stesso Martin Cornell è che il profilo dell'acqua di Londra allora su questa cosa non sono proprio convintissimo ma anche qui vai a vedere come sarà stato il profilo dell'acqua di Londra dell'epoca non lo sappiamo non abbiamo analisi microbiologiche del 1700 e del 1800 e soprattutto anche chimiche comunque il profilo dell'acqua di Londra probabilmente non era adattissimo per le birre molto lupolate ma poteva essere più adatto per le birre con un po' più focus sui malti come potrebbero essere le porter qui allora si leggono cose un po' diverse analisi chimiche degli oligo elementi della rete idrica londinese del 1700 non ce ne sono ovviamente o di Liverpool o di Burton quello che però sappiamo oggi è che i malti scuri essendo più acidi rispetto ai malti chiari possono con la loro acidità tamponare acque particolarmente basiche perché magari sono particolarmente ricche di carbonati e il pH è uno dei valori fondamentali durante il processo di ammostramento quindi del momento in cui si mettono i malti a contatto con l'acqua mentre concentrazioni più alte di solfati come sappiamo essere perlomeno più recentemente le acque di Liverpool e in particolare di Burton ecco quando gli oligo elementi l'equilibrio tra gli oligo elementi è spostato sui solfati vengono sottolineate di più le componenti diciamo più dure come l'amaro e quindi contributo dei lupoli di conseguenza secondo Cornel quindi appunto Londra fa porter buone Barton fa lupolate buone ma vince comunque Hodgson per questo fattore del long credit magari carico qui anche l'immagine di un grafico dove si vedono appunto i profili delle acque sono però dati moderni quindi non sappiamo a fine 1700 come fossero esattamente le acque possiamo supporre che più o meno la rete idrica però fosse persa poco quella di questo grafico mi piace molto vedere anche il profilo dell'acqua di Plezzen cioè Pilsner visto che abbiamo già citato il buon Joseph Grohl e l'invenzione delle birre chiare Plezzen dove appunto nasce l'omonimo stile delle birre Pils nel XIX secolo e si vede chiaramente proprio a colpo d'occhio come sia non di qua acqua destilata ma comunque un'acqua leggerissima cosa che appunto ha partecipato ha concorso alla creazione di questo stile ma a tal proposito vi rimando il video sulla nascita delle birre Lager tutto molto bene per 50 anni dal 1780 fino al 1820 la Old Bull Brewery di Olson ha il monopolio comunque ha un suo contratto esclusivo per via del long credit con la compagnia delle Indie quindi di conseguenza il monopolio sulla vendita delle proprie pale lupolate in India nel 1820 George Olson muore il figlio decide di provare quindi a vendere direttamente l'ul e birra in India cercando di eliminare l'intermediazione della compagna delle Indie ma probabilmente non si scherza con un gruppo così potente e non ha particolarmente successo vuole l'inesperienza vuole il fatto che è molto potente la compagnia delle Indie da quel punto di vista concluso quindi l'accordo con Old Bull Brewery la compagnia delle Indie individuo come produttore per le proprie birre da vendere in India tale Samuel Alsop birraio di Barton a Pondtrent dove appunto si dice che siano nate le birre Ipa di fatto prima in colonia avevano solo le birre di Olson da bere e una delle cose che secondo me passa un po' tra le righe in una delle interviste in uno dei test di Cornell è come se mi sembra di intuire se le facessero andare bene ma quando poi arrivano quelle più buone è meglio in sostanza quindi appunto quelle di Alsop hanno parecchio successo e fa parecchi soldi appunto questo mastro birraio di Barton con queste birre che riesce ovviamente a vendere a un mercato che via via è sempre più grande quindi quello dei coloni appunto in India l'acqua era più buona sì probabilmente era quello magari era anche semplicemente più bravo a farle aveva qualche accortezza in più fatto sta che in questo momento queste birre vengono proprio chiamate Alsop Pale Ale ci sono anche qui già alcune immagini online anche se sono un po' un po' moderne ma magari vi metto qualche logo visto il successo anche Bass si propone alla compagnia in pochi anni riesce a vendere più di Alsop e rende praticamente mainstream le birre pale amare e luppolate tanto che Bass appunto per quello dicevamo prima si definisce l'inventore delle ipa ma per fare quindi un diciamo un recavo di tutto quello che ho detto fino adesso innanzitutto uno luppolare di più per l'export era la norma per tutte le birre e tutti gli stili indipendentemente dal colore e dal tipo di malto utilizzato quindi tutte le pale bevute diciamo lontano luogo di produzione o non fresche probabilmente erano luppolate o comunque se non lo erano il masso birraio si assumeva questo rischio due Ottilson fu il primo a portare la sua pale ale in india non tanto quanto pare per una particolarmente buona pale ale ma perché questo accordo di long credit era molto goloso per la compagnia delle indie quindi ha vinto per una buona proposta commerciale più che più per un buon prodotto e tra le pale ale di Barton, Olsop e Bass hanno successo perché sono buone e perché non c'è più quell'accordo di long credit con la compagnia delle indie ma le pale ale di Barton piacciono anche a Londra perché a Londra si bevono le pale ale che arrivano da Liverpool e da Barton principalmente anche perché nel frattempo appunto mentre ci spostiamo in avanti con gli anni costano sempre meno perché i processi industriali riescono a rendere più economiche anche le biere pale, anche le biere più alcoliche e luppolate l'industria e l'innovazione tecnologica hanno quindi reso più accessibili a tutti queste biere anche gli stili che originariamente erano un po' più costosi e riservati ai ricchi e idem anche qui la concorrenza tra i vari bierefici che riescono ad avere accesso a queste nuove tecnologie e quindi in un regime più o meno di libero mercato come poteva essere quello comunque britannico a proporre diversi prodotti e quindi anche fuori dai propri paesi come appunto Londra incominciano a bersi le biere di Liverpool le English IPA come le conosciamo e le abbiamo codificate oggi si ispirano quindi a questo tipo di biere sono delle biere pale, luppolate con luppoli britannici quindi non ci aspettiamo quel naso tropicale talvolta anche resinoso, agrumato tipico dei luppoli americani luppoli inglesi o inglesi e continentali ed europei con la differenza però che potevano essere anche brettate questo perché il trasporto veniva comunque sempre in botte quindi in legno il luppolo è vero che è un batterio statico ma il brett, i bretanomices sono un genere di lieviti e è proprio un altro tipo di organismo sono eucarioti i bretanomices non sono prokarioti come batteri motivo per cui le biere molto luppolate fermentano comunque molto bene non è che se metto tanto luppolo evito che si sviluppino anche i lieviti ha un affetto appunto batterio statico motivo per cui se abbiamo un'infezione virale non possiamo prendere un antibiotico se è fungina prendiamo un altro tipo di prodotto se appunto è batterica può andare bene un antibiotico e così via insomma sono proprio organismi differenti altra cosa ci aspettiamo anche probabilmente un importante livello di ossidazione perché 4 mesi di viaggio in nave, in botte, al caldo sicuramente arrivavano belli belli ossidati questa di base è secondo me la storia comunque i punti insalienti per quanto riguarda l'origine inglese delle IPA se però facciamo un fast forward in avanti di diversi anni perché è importante comunque vedere poi come è venuta l'evoluzione più recente dobbiamo sposarci ovviamente negli Stati Uniti in particolare dagli anni 80 in poi avviene quella che viene chiamata la beer craft revolution americana questo ha tutta una serie di con cause che genera un po' una tempesta perfetta nel senso che ci sono tanti fattori della facilità di fare impresa negli Stati Uniti il fatto che non ci fosse come per esempio in Italia un monopolio sull'alcol il legame strettissimo che c'è con un brewing, cioè con il farsi birra in casa e il mondo del barbecue che è una cosa che noi tipicamente associamo ovviamente agli Stati Uniti ma non solo cucinarsi la carne in giardino ma anche farsi la birra in giardino fa sì che appunto tanta gente che incomincia a farsi la birra incomincia magari anche a venirgli bene questa birra decide poi di venderla e passare da un impianto diciamo casalingo brassicola un impianto diciamo più professionale o comunque industriale o comunque anche molto piccolo, artigianale ma disposto, cioè pensato per la vendita è relativamente facile negli Stati Uniti comunque è molto più facile di quanto non lo fosse all'epoca in Italia di quanto non lo era in Italia fino a pochi anni fa ma forse quando non lo è tutto era in Italia per quanto appunto è difficile fare impresa in Italia il fatto sta che appunto c'è tutto questo nuovo sviluppo c'è uno sviluppo pazzesco sullo studio del luppolo, delle varietà, delle cultivar di luppolo che negli anni 80, in parte 90 e soprattutto dal 2000 in poi prende un sacco piede anche sugli incroci, quindi sulla libertazione sulle diverse cultivar di luppolo fatto sta che se dobbiamo mettere una data proprio iniziale allora mettiamo il 1975 con la Liberty Ale di Anchor birrificio storico, importantissimo, nel momento in cui sto registrando oh ahimè ha preso da pochi giorni una notizia che chiude era in fallimento da diversi anni, Anchor cioè era in negativo da diversi anni si parlava di un acquisto da parte di Asai Anchor in questo momento ha chiuso ma dobbiamo riconoscergli il merito di aver rivoluzionato il mercato della birra americana e di conseguenza dal resto del mondo di aver riportato alla luce stili come le California Common di aver inventato le biere moderne tra cui sicuramente la Liberty Ale questa oggi inquadrata come American Pale Ale il fatto sta che è la prima volta che si usa così tanto luppolo così tanto luppolo americano anche in aroma appunto a scopo aromatico il boom poi nasce nella seconda metà degli anni 80 e soprattutto dal 2000 in avanti qui nascono tantissimi birrifici craft una precisazione che mi sono segnato qui cosa intendo per studi sul luppolo sia libri di azione quindi varietà che possono combinarsi e dare luppoli con caratteristiche nuove sia soprattutto l'inizio di grazie anche qui a una serie di fattori come trasporto al refrigerato studi sull'utilizzo del luppolo in amaro e in aroma vi faccio vedere questo piccolo grafico dove si vede, vedete, sull'asse delle X il tempo, cioè i minuti in cui il luppolo viene infuso in un liquido caldo come il mosto e vedete sull'asse delle Y l'estrazione quantitativa di diverse cose dell'aroma e dell'amaro per fare un esempio molto molto facile che magari è capitato anche a noi tutti i giorni se la lascio la bustina di te tanto tempo nell'acqua calda è più amara di quanto non fosse accaduto se l'avessi lasciata molti meno minuti stessa cosa più o meno avviene con il luppolo cioè un luppolo che viene lasciato per tanti minuti in un liquido caldo riesce a estrarre si riesce ad estrarre di più una parte di acidi carbossilici particolari che ricadono il sottonome di alfa-ac di questi poi si isomerizzano cioè cambia leggermente la struttura di questa molecola la struttura diciamo spaziale della molecola ma non cambia il numero totale di atomi in ciascuna molecola si riarangia questa molecola e in questo isomero è particolarmente amaro cioè il nostro corpo lo percepisce come molto amaro questo processo di isomerizzazione richiede alcuni minuti di tempo e temperature alte a differenza di ciò che è invece la parte aromatica cioè di profumo la parte aromatica non deriva da questi acidi ma da gli oli essenziali che sono una macro categoria di composti chimici che ricadono il sottonome di terpeni la grossa differenza tra queste due classi di composti è che gli alfa-acidi sono idrosolubili si sciolgono bene nell'acqua quindi e una volta gli isomerizzati restano nella birra per tantissimi anni diciamo così mentre la parte dei terpeni degli oli essenziali sono poco solubili in acqua e questo fa sì che queste molecole siano molto volatili e quindi durante la bollitura se ne vanno dal liquido di conseguenza un lupolo che viene fatto bollire per tanto tempo renderà molto amare la nostra birra e non profumata o pochissimo profumata un lupolo che resta poco tempo a bollire invece darà tanti profumi ma non conferirà particolarmente sul livello di amaro perché non fa in tempo a isomerizzarsi a estrarre e a isomerizzare tutti questi acidi carbossilici questo ha rivoluzionato completamente l'aspetto della produzione di birra e le ipa moderne hanno questo naso davvero esplosivo per questo motivo perché si aggiunge il lupolo nella parte finale della bollitura del mosto o addirittura a freddo a freddo in generale sotto i 60 gradi ma comunque è proporzionale alla temperatura a temperatura molto fredda non isomerizza questi acidi non isomerizzano quindi non c'è un apporto sensibile di amaro o molto leggero ma si riescono ad estrarre questi oli essenziali e quindi quello che si fa è il cosiddetto dry hopping mentre la birra sta fermentando quindi indicativamente una temperatura compresa tra i 18 e i 22 gradi o anche mentre la birra sta maturando quindi a una temperatura solidamente inferiore ai 4 gradi centigradi si aggiunge del lupolo in modo da estrarre la componente profumata la componente aromatica senza dare altro amaro alla birra questo è l'utilizzo moderno del lupolo è una cosa appunto che vediamo da relativamente pochi anni direi anni 70-80 in poi e soprattutto dal 2000 in avanti come dicevo prima ma tutta questa storia delle birre molto lupolate ecco a origine le English IPA che nominavo a inizio video esistono poi tutti anzi metto qui un'immagine da Pines and Panels che è molto interessante per me perché fa questa sorta di analisi filogenetica per usare un termine rubato un po' alla biologia delle famiglie e delle sottospecie di IPA vedete che appunto dalle English IPA poi nascono tutte le altre sottospecie ma per affrontare ciascuno di questi stili vi rimando un video che ho già fatto per evitare di ripetermi e anche perché stiamo andando un po' lunghi che si chiama proprio tutte le IPA più uno in cui ho affrontato alcuni di questi stili ed ho usato alcune di quelle birre di birre appunto in questi stili la birra che stavo bevendo adesso non vi dico qual è perché ho fatto un video per chi uscirà nei prossimi giorni come ho anticipato all'inizio video niente di base questa era la storia soprattutto lato Inghilterra lato Regno Unito della nascita di questo stile spero di essere stato sufficientemente chiaro per qualsiasi cosa c'è la zona commenti scolla grazie a tutti